Nella Paganese è solo di passaggio, in campo solo pochi minuti nei quattro mesi trascorsi da tesserato della Paganese Calcio e forse solo per uno scambio di favori nella strana girandola dei trasferimenti dei calciatori. Lui, Ibrahim Marofi, il calciatore belga naturalizzato marocchino, ex inter e poi Paganese, la cui identità sarebbe stata usata dal terrorista El Bacaro per affittare un appartamento a Charles Roy, alla domanda se conosceva Jamal o Ali, ha ribadito di non conoscere tutte queste persone. Non ho mai incontrato El Bacaro, mai nella mia vita, non lo conoscevo, non sapevo che esistesse, poi ho visto una settimana fa che esisteva. Sono le dichiarazioni rilasciate a Sky TG24. E intanto, proprio sulla falsificazione di documenti di identità, ha fatto leva il terrorismo islamico, un fenomeno che potrebbe aver avuto in Italia la sua massima espressione. Vedi l'arresto di Jamal e Ali a Bellizzi, ritenuto un esperto nella falsificazione di documenti. L'utilizzo di falsi nomi da parte dei terroristi potrebbe essere direttamente collegato ai numerosi furti di carte d'identità messi a segno negli uffici comunali avvenuti anche nel nostro territorio. Nella sola città di Pagani, per esempio, tra il 2012 e il 2016, sono state portate via dagli uffici di via Pittoni oltre 3.000 tessere non intestate, oltre a ingenti somme di danaro. Ma furti del genere ci sono stati pure in altri comuni del Salernitano. Nel 2014 furono messi a soccuadro gli uffici anagrafe dei comuni di Roccapiemonte e Fisciano. Poche migliaia di euro portate via, mentre aveva fatto scalpore il furto di centinaia di tessere d'identità. L'ultimo episodio, lo scorso 5 gennaio, proprio a Pagani, 1.800 le tessere portate via, oltre 3.000 euro in contanti. La scoperta ad opera di alcuni dipendenti. Abbiamo chiesto ragguaglia al comandante della polizia locale, Giovanni Vitolo. Tutte queste carte d'identità smarrite o rubate, bisogna vedere che fine fanno, se veramente sono state smarrite, se veramente sono state rubate. Oppure, ma voglio dire, il tutto si denuncia e viene inserito nello SDI nazionale. Cosa è lo SDI? È un sistema di indagine che c'è in uso del Carabinieri dove vengono inserite tutte le denunce e tutte le persone che vengono in contatto con la giustizia che effettuano un reato. Ecco, ma potrebbe essere un sistema per controllarle meglio queste carte d'identità? Dovrebbero trovare, io penso che con la carta d'identità elettronica che dovrebbe uscire può darsi che qualcosa di meglio, dal cartaceo qualcosa di meglio si potrà trarre sicuramente. È facile rubare carte d'identità nei comuni? No, almeno c'era superiore non è mai successo, altri comuni so che hanno rubato delle carte d'identità e quindi voglio dire, debbono attrezzarsi per non farsene rubare.